Presidente, mille e non più mille agenzie, comunque una numerica molto importante, ma come si fa a gestire bene dei numeri così elevati di punti vendita? Si fa con organizzazione, tecnologia, che sono due cose che noi abbiamo in azienda, quindi gestire bene 700 agenzie o mille è la stessa cosa, non di più, perché il mille non è uscito come numero così a caso, ma perché abbiamo fatto una ricerca di mercato importante dove abbiamo già dichiarato che non è detto che le mille che avremo fra un po' di tempo rimarranno sempre le stesse mille, magari qualcuno uscirà, qualcuno entrerà, perché vogliamo fare veramente un netto di qualità e quindi saranno mille agenzie importanti. Parlando invece di servizi ancillari, sempre più si dice che possono essere un business interessante per le agenzie di viaggi, qual è il suo parere in merito e a suo avviso quali servizi sono effettivamente remunerativi? A mio avviso non è un tema così importante caldo per le agenzie di viaggi, lo è sicuramente per le compagnie aere che noi stiamo facendo un grande business e noi facciamo da collettore l'incasso, quindi non è che sia sicuramente, se consideriamo le assicurazioni come servizio ancillare, allora sicuramente qualche cosa in più ha importanza, ma non è sicuramente il nostro business questo. Da un tema all'altro, la partita FTO-FIAVET, quando si concluderà, a che punto siamo, ci sono degli sviluppi, cosa mi può dire in merito? È sul tavolo, credo che a tempi brevissimi a questo punto o si chiuderà o non si chiuderà, ma credo a tempi ormai brevissimi. Ci dobbiamo aspettare insomma una risposta o per sì o per un no? Io ho sempre fatto in modo che si potesse fare, sono sempre stato colomba, ho sempre cercato di mettere insieme tutti, ho sempre dichiarato che non mi interessa fare il presidente di questa nuova associazione, lascio in campo chi vuole farlo, quindi sono un facilitatore, nell'interesse delle agenzie di viaggi mi auguro che si possa fare, poi se non si potrà fare, pazienza. E poi anche per quanto riguarda l'organigramma, quando si concluderà questa partita, se non sbaglio, verrà anche nominato un po' il presidente di FTO, che prima di allora la vostra scelta diciamo dichiarata è quella di non, se non sbaglio, di non nominarlo, giusto? Corretto, perché abbiamo sempre dichiarato che volevamo farlo non a due ma a tre, quindi non soltanto a AENET, a Fedeli Viaggio, ma anche a FIAVET nel nuovo FTO. E come le stavo dicendo, mi auguro che questo possa avvenire a brevissimo, se non arriverà, pazienza, io ci ho provato. Un altro tema caldo del momento è sicuramente il fondo di garanzia, a breve, in pochi giorni ci sarà un incontro importante, che cosa mi può dire in merito? Un tema molto importante, per qualcuno viene visto come un problema, un costo maggiore, sicuramente in un momento come questo non abbiamo bisogno di altri costi, e qui siamo d'accordo tutti, però va vista la parte piena del bicchiere, nel senso che sarà forse l'occasione, per dirla in parole povere, di dare questo bollino blu, cioè le agenzie che avranno un rating, avranno quindi un'attività più controllata, più sicura nei confronti del cliente finale, e quindi sarà un rafforzamento della ferita del turismo, quindi da un problema cerchiamo di fare un'opportunità.